Vediamo adesso la pagina dello sport parlando del Civitavecchia Calcio. Si è svolto infatti oggi il primo allenamento del Civitavecchia sotto la guida del nuovo mister Stefano Ferretti. Ai nostri microfoni sentiamo Massimo De Santis. Siamo qui con Massimo De Santis, collaboratore di Deodati. Ricordata che proprio in queste ore, in questi momenti, dovrebbe stare acquisendo il Civitavecchia Calcio dall'ex presidente Clemeno. Come è andato l'incontro tra Clemeno e Deodati di quest'oggi? L'incontro penso si sta ancora protaendo perché si sta valutando l'effettiva situazione debitoria del Civitavecchia Calcio perché Deodati vuole chiudere definitivamente tutto il pregresso. Dopo l'ok del sindaco Tidei di ieri, già da oggi la nuova proprietà del Civitavecchia Calcio si sta muovendo sia per quanto riguarda i calciatori sia per quanto riguarda l'assetto organizzativo. Il campo è quello che ci interessa più perché domenica c'è la partita, successivamente a questa fase procederemo poi a strutturare la società nei vari ruoli, nell'organigramma che poi riterremo più opportuno che è con la società di calcio. Per domenica il Civitavecchia contro il Palestrina giocherà con gli undici che hanno affrontato il Turris oppure c'erano già significativi cambiamenti? Ma questo lo sapremo domani mattina. Va bene, la ringraziamo. Mister Stefano Ferretti, oggi primo giorno di lavoro con il Civitavecchia Calcio. Come ha trovato la squadra? Beh, io direi discretamente. Ragazzi, intanto bisogna fargli un applauso a questi ragazzi perché comunque hanno lavorato fino ad adesso in condizioni difficili. Ma credo che l'applauso vada esteso anche alla società perché comunque lavorare in una situazione precaria senza avere delle certezze non è facile. Ragazzi, tutto sommato, stanno bene. C'è qualche adesso a ciacco da verificare di brutti, di bacchiocchi, ma vediamo un attimo com'è. Però i ragazzi hanno lavorato con buona determinazione, con grande impegno. Vediamo un attimo, bisogna fare una valutazione adesso. Quali sono le indicazioni che darà a De Santis e De Dati per operare sul mercato? Adesso voglio prendermi ancora un giorno di tempo domani per valutare un po' bene la situazione. Poi è chiaro che dipenderà anche da quello che la società può offrire come mercato, come mercato di giocatori. Dobbiamo vedere un attimino, dobbiamo decidere delle cose importanti. Come utilizzare gli under, in quale posizione, cercare di vedere un attimino se c'è predisposizione a determinati giocatori, ad accettare determinate condizioni. Questo più per quanto riguarda la società. Io vedo che loro seguono i consigli e sono predisposti ad allenarsi bene. A me questo basta. Ha già un'idea sul modulo che schiererà sia nella battaglia di domenica contro il Palestrina sia per il campionato del Civitavecchia? Preferisco sempre giocare con una difesa a quattro, con due centrocampisti centrali e tre uomini avanzati sulla linea dei trequartisti. Due larghi e uno chiero a una punta centrale. Quindi un 4-2-3-1, chiamiamola così. Bene, andiamo avanti. Al Bonelli termina 3-2 per il Cornetto Tarquigna. La gara di ritorno del primo turno della Coppa Italia di eccellenza. In virtù della vittoria casalinga per 2-1 nel match di andata, però, la caninese di disperduti passa il turno e pensa già al campionato. Domenica il Real Pomezia la attende. Quello che nel pre-partita non sembrava così impossibile, ovvero ribaltare il 2-1 subito una settimana fa al fattori dalla CPC, nella partita d'andata per l'ingresso ai gironi di Coppa, si è realizzato. Ci basta un semplice 1-0, ci credo, aveva dichiarato l'allenatore del Cervete di Ferretti, ma la sua squadra è andata oltre vincendo 2-0. Sta per iniziare in questi giorni la preparazione atletica del Pirgi Santa Severa Basket. La squadra allenata dal tecnico Civita Vecchiese Daniele Rinaldi quest'anno parteciperà nuovamente al campionato promozione dopo la clamorosa decisione della federazione di non far accedere al campionato di Serie D la squadra vincitrice dei play-off, ossia la Pirgi, promuovendo solo le squadre arrivate primi nei mini-gironi della seconda fase. Si è tenuto ieri il primo allenamento della stagione 2012-2013 per la squadra di Hockey in Line Serie B della CV Skating. Gli snipers si sono riuniti al Chiara Grammatico, campo da pallamano cittadino, per effettuare la prima seduta sotto gli ordini di coach Valentini. Oltre ai fedelissimi della società di patronum Mercuri, si è anche registrato con molto piacere il ritorno all'attività agonistica di alcuni atleti che avevano abbandonato la disciplina. Bene, questa era l'ultima notizia. L'appuntamento con il TG Alto Lazio a domani. Buonasera. Grazie a tutti.